Inutile aspettare come godò le primarie del centrodestra che tanto non si faranno perché forse Italia si oppone. Niente a Cordicchi, è avanti da solo. Questa è la linea intrapresa dal candidato sindaco di Fratelli d'Italia al comune dell'Aquila Pierluigi Biondi, ex sindaco di Villa Sant'Angelo, che ha oggi illustrato le sue idee e programmi sul fronte del sociale. Le nostre prime proposte sono quelle del riutilizzo del progetto CASI ai fini di un progetto ampio di mutuo sociale in cui si tengano in considerazione le esigenze prioritariamente degli aquilani. C'è una idea di rivedere le modalità di accesso ai servizi comunali, in particolar modo ai servizi legati alla scuola, quindi asilinido, il trasporto scolastico e le mense, contemplando delle previsioni per le famiglie aquilane. Poi c'è il tema della disabilità con la creazione della figura del disability manager e l'incremento dei posti riservati a disabili, ma anche l'introduzione dei parcheggi rosa per le gestanti e per le famiglie con bambini. Dopodiché c'è anche un'idea che andrà sviluppata, che sarà quella della creazione di un'azienda, chiamiamola così, unica sociale in cui tutte le esigenze sociali vengono affrontate in maniera coordinata ed efficiente. Biondi non lesina poi bordata al centro-sinistra, che amministra la città da due legislature e che ieri, in vista delle primarie tra Pierpaolo Pietrucci e Americo di Benedetto, ha presentato l'ampia coalizione Vivendo l'Aquila, pronta a riconquistare la città per altri cinque anni. In quella coalizione ci sono delle persone che fino a non più tardi di due o tre mesi fa ne hanno dette di tutti i colori del centro-sinistra, della gestione di Cialente, degli assessori. Ci sono persone che durante la conferenza stampa non si guardavano in faccia. Mi fermo ad un giudizio esterno perché ognuno ha i suoi problemi dentro casa, quindi ognuno si vede i suoi. Certo, questa è la dimostrazione che il potere in questa città è un collante molto più forte certe volte della dignità e delle convinzioni personali.